salvo a tutti oggi vi mostrerò come esportare tra rhino ed importare su 3d studio il consiglio che mi sento di darvi è quello di crearvi in maniera abbastanza organizzata tutti i layer con tutti gli elementi che andrete ad esportare procediamo allora ci selezioniamo il file tutte le superfici una volta selezionato andiamo su mesh facciamo tasto sinistro su questo pulsante che è mesh da superfici polisuperfici qui andremo a creare delle mesh da queste superfici con questi poligoni generando dei poligoni quindi qui possiamo alleggerire file mettendo pochi poligoni oppure con molti poligoni in base alla difficoltà del vostro del vostro modello e io invece comunque mi cerco sempre di mantenermi in una via di mezzo diamo anteprima e facciamo ok una volta fatto questo se facciamo clic come possiamo vedere ci ha sovrapposto la mesh con la polisuperficie quindi andiamo su questo pulsante su selezione e poi clicchiamo sul pulsante seleziona mesh una volta schiacciato il pulsante seleziona mesh spostiamo tutti gli elementi in mesh ora io ho una distanza qui di mille centimetri e abbiamo ora il nostro file il nostro modello generato in mesh perché perché l'ho spostato di mille centimetri mettiamo a caso che io questa facciata la voglio con la bugatura per la vetrata io ora questo me lo ricopio su quest'altra pavimentazione questo lo ritrasformo in mesh mi riseleziono le mesh queste le deseleziono e ecco qui che succede che posso rispostarmelo visto non ho punti di aggancio sulle mesh anche se potrei metterli però preferisco allontanarmi di una distanza ben precisa che è comoda per me per ricordarmi appunto per ricordarmela per esempio l'abbiamo spostato di mille ed ecco qui che ha posizionato alla perfezione ora proprio questa bucatura non la voglio e torniamo indietro una volta create le mesh selezioniamo gli elementi appunto in mesh e andiamo su file esporta selezione ci dirigiamo all'interno della cartella in cui vogliamo salvare il nostro file ed ecco qui la parte più importante perché lo salvo in dvg salvo il file in dvg per il semplice motivo che una volta che importerò il file aprirò il file su 3d studio mi ricompariranno tutti questi legger collegati creando una sorta di gruppo per esempio il vetro avrò tutti gli elementi sotto la voce vetro vi faccio subito vedere salviamo qui mettiamo predefinito andiamo su 3d studio apriamo il nostro file da 3ds max mettiamo all files i box open ecco qui comunque già possiamo avere vedere un'anteprima dei layer ok allora adesso mi imposto ho il mio preset già mi carico il mio preset andiamo su materiali il preset sono delle impostazioni già già programmate già definite che ti puoi salvare manualmente ci selezioniamo tutti gli elementi ora uno può dargli un qualsiasi materiale e ora per 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 un fatto pragmatico e mi 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 piacere mi piace crearmi appunto un materiale base un vrematerial base allora come possiamo vedere qui all'interno ora se io vado a spegnere tetto per esempio verranno spente tutte le coperture che sono sotto la voce tetto se invece uno volesse diciamo ecco spegnere tutte le coperture tranne quella della della porta della della stanza di ingresso andiamo su editable mesh poi andiamo su element ci selezioniamo solamente questa copertura e andiamo su detaccia qui daremo un nome quindi copertura ingresso facciamo ok ricordiamoci sempre di uscire da element e poi cliccare all'esterno degli elementi che è successo è successo che ora io ho detacciato quindi ho praticamente diviso staccato dal gruppo la copertura dell'ingresso quindi secondo me secondo un parere personale questo è un metodo per avere una gestione del modello molto semplice e molto efficace più che altro semplice che ti che aiuta principalmente a gestire il file e il modello in generale grazie a tutti grazie a tutti